Ciao a tutti, oggi faccio un video per dare delle risposte a un video che ho fatto, cui avete fatto un po' di domande molto interessanti e quindi mi fa piacere rispondere. Il video in questione è quello relativo al setup di Horror Music Celebration, vi metto il link al video e appunto prima di rispondere, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati, fare domande, proposte e quant'altro, mettere un mi piace alla fine del video se chiaramente vi è piaciuto. Vi ricordo il mio canale Patreon dove potete sostenere il mio lavoro, avere dei contenuti in più, pdf, trascrizioni, suoni e quant'altro, un contratto molto più diretto con me per il livello pro, ci sono ancora contenuti in più esclusivi e una lezione online una volta al mese collettiva in diretta con me, quindi molto interessante, una bellissima comunità, uno spazio che se usato bene secondo me può dare delle cose molto belle e se siete interessati invece ad approfondire un po' tutte le cose che tratto sul canale, quindi da così approfondire il discorso proprio dello studio pianistico, tastieristico piuttosto che tutta la parte tecnologica, scrivete ad info.paologambino.com. Allora, il setup della volta scorsa è un setup praticamente basato tutto su main stage, tranne proprio una tastiera appunto che è la mini nova, l'innovation con cui faccio qualche suono e il resto viene totalmente da main stage. Allora, prima domanda, quella di Dario che mi chiede come mai utilizzo main stage avendo modi X. Allora, premesso, sto utilizzando per tutta una serie di questioni che vi racconterò solo se vi scrivete a Patreon, devo utilizzare degli strumenti piccoli, ma al di là di questo, la risposta è perché con modi X, non col cavolo che faccio tutte quelle cose lì, nel senso che main stage è, come tutte quelle situazioni basate su software, hai delle possibilità infinite e il fatto di ottenere dei risultati in tempi velocissimi, ci sono dei suoni che io creo veramente in 30 secondi su main stage, che magari su modi X ci metto 3 minuti, ecco, questo ma non io, cioè, se sai come lavorarci, veramente non ce n'è per nessuno, non ci sono teoricamente limiti di polifonia, cose del genere, l'avevo utilizzato l'anno scorso, un po' per sperimentare, un po' comunque per fare i pianoforti e qualche suono, era un rinforzo, però il grosso comunque anche lì veniva da main stage, per il quale, secondo me, proprio non ce n'è per nessuno, cioè, lì veramente, se hai visto, c'è una quantità di suoni pazzesca, è veramente tutto molto molto veloce, anche se taglio dei campioni, come avete visto, insomma, il taglio su logic, sono già sul computer, non devo fare poi, spostare sulla chiavetta, caricare sulla modi X, insomma, tutto è estremamente più lento, poi, comunque, c'è il limite delle otto parti, insomma, veramente, tanti, troppi limiti per i miei gusti, poi, probabilmente, magari, in futuro, magari, tornerò ad utilizzarla, anzi, sicuramente, però, non è, sicuramente, quello che puoi fare con main stage è infinitamente superiore. Altra domanda di Daniele, lui mi chiede, appunto, come ho organizzato il concert, i set e quant'altro, in realtà, set qui non ne uso, perché la scelta è quella di utilizzare, praticamente, per ogni patch, di evitare cambi di programma, cioè, voglio utilizzare una patch con tutti i suoni, distribuire il tutto il più possibile tramite split layer, per evitare errori, sbaglio il suono, insomma, quelle robe lì, lì è molto importante, è un ruolo, appunto, di grande responsabilità, quindi, in generale, sia qui che, per esempio, in Broadway Celebration, vi metto anche il link, non utilizzo i set, li utilizzo in altre situazioni, perché, comunque, sono una buona cosa. Il discorso, il routing degli effetti, in realtà, è molto semplice, nel senso che effetti faccio come ho messo anche in un altro video, appunto, tutti i vari effetti che non siano riverberi e delay sono, ovviamente, messi in insert, il resto, invece, quindi, appunto, compressori, equalizzatori, quello che è, mentre, invece, delay e riverberi sono messi su dei bass, i riverberi, comunque, non sono, ne utilizzerò due o tre, non è che ne utilizzo tantissimi, quelli che servono, insomma, e non ho fatto cose particolari, c'è solo una patch che finisce in un patch bus, per un discorso di comodità, ma il resto, il patch bus, li utilizzo poco, in questo caso qua. Rivedisco, mi piace avere delle cose molto semplici, poi, alla fine, anche perché, appunto, avevamo due spettacoli, insomma, e poche prove, quindi, veramente, deve essere tutto più semplice possibile. Ma, in generale, questa è la mia filosofia, ne parlerò anche in qualche video. Altra cosa, domanda di Giancarlo. Giancarlo mi chiede, invece, come mai utilizzi un layout abbastanza così semplice, se faccio tutto a memoria, sì, faccio tutto a memoria, perché, tanto, mi devo imparare le parti, e quindi devo ricordarmi a questa lì, questa lì, cioè, quindi, non guardo mai il computer, cioè, tendo, anche perché, poi, diciamo, uno spettacolo del genere, ce l'ho abbastanza sotto, lo guardo, se mi capita, so, è una cosa che non faccio da tempo, allora, un brano che non suona da tempo, lo vado a guardare, ma di solito, tengo tutto a memoria, proprio perché, devo essere, non mi posso permettere, uno spettacolo del genere, di distrarmi troppo, insomma, beh, servisse, guardo. La modalità perform, io non la uso, ma è una roba mia, però, in realtà, può essere una buona soluzione, la visuale è sicuramente migliore, ma, la mia abitudine, in realtà, quella di avere sempre la modalità edit, della totale inutilità, onestamente, mi sembra di aver tutto più sotto controllo, ma ribadisco, è una roba mia, totalmente inutile, il discorso di utilizzare i colori, perché no, cioè, lì è una questione di gusto personale, quindi, perché no, cioè, lì è veramente una delle cose belle di main stage, il fatto di potersi personalizzare il setup, quindi, perché no, il discorso, invece, di utilizzare dei controlli dei volumi, il discorso degli emmon, allora, qui, onestamente, io, vabbè, non amo, appunto, come ho detto prima, avere cose complicate, non credo che il problema sia il fatto di avere un MacBook Pro vecchio, ma, chiaramente, bisogna capire quali plugin utilizzi, quale versione di main stage, quale sistema operativo, mille altre cose, in generale, esempio, ecco, il discorso di controllare i volumi delle parti, non mi piace assolutamente, nel senso che io gestisco il volume master, e poi ho dei suoni che metto a un volume definito, il resto lo controllo col pedale del volume, stabilisco un range massimo, diciamo, dove voglio che arrivi il suono, e poi lì regolo di conseguenza, ed è un sistema che onestamente mi soddisfa, diciamo che avere tutti i controlli di volume, ma questo che sia tastiera, che sia main stage, mi sembra far pasticci, poi ci sono casi particolari, diciamo, eccezionali, in cui magari non riesco a controllare con il pedale, insomma, ma appunto, già solo il fatto di staccare le mani, per me è un problema, in un caso tipo come quel setup lì, è praticamente impossibile, quindi i pedali sono fondamentali, ma in situazioni magari in cui posso anche farlo, lo faccio veramente molto, molto di lato, per me appunto, essendo già complesso il tutto, levarmi degli stress, delle altre cose cui pensare, mi aiuta molto, questo ovviamente, per come ci lavoro io, quindi non è nulla di assoluto, però sperimentate, provate, però sempre con l'idea di, secondo me, di non complicarci troppo la vita, ma sempre di pensare alla musica, un abbraccio a tutti, a presto, ciao!